Lui costa. Ancora per linea interna Inzaghi. Super! Pippa Inzaghi. 1-0. Il pubblico del Milan. C'è grande pressione da parte del Milan. L'Inter non è stata brava a uscire con la palla. L'hanno recuperata. Poi palla dentro. La sotella in verticale con il solito movimento di Zaghi. A proteggere la palla. A non permettere al difensore, in questo caso Cannavaro, l'anticipo. E subito la girata sul secondo palo. Questo è un grande gol. È così. Se Zaghi lasci quei 20 centimetri in tendenza che gli permettono di mettersi tra te e il pallone e Zinita.